Ciao a tutti ragazzi, siamo a Percusa, l'autore di Percusa, l'autore di Fiat 500 Crepitalia Ora vedremo il giro della pista con il nostro cameraman Gessue Privitera che incontrerà il circuito, stiamo per partire, vai 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 a Percusa, l'autore di Fiat 500 Crepitalia Oh, sta bravo! No, per me, sta sul bordo, sta sul bordo! Mi chiede la voce, voce! Bazzato! Vabbè, bordo chiuso perché ce l'ha di legionare! Destra, poi sinistra! Ma sul cordalo! Lo tocca! E si prende la via! Vai, vai! Oh, oh, oh! Mi chiede la via! Oh! Bazzati! Bazzati! Mi chiede la via! Oh, per me, mi chiede la via! Bazzati! Non cosa? Cwardat! Ma non c'è lo so? 嗎, si Mickey contracts! Medicra! Calca! no! no! Calca! 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 Calito! Calca! 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 Non si può riprendere, non si è spaccato sulla finestra, non va bene la città, c'è una regalata, va dentro, va dentro, si vuota dentro, va 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 dentro, motoreato, non si può finire il condottorato, non si lo aziona, e si lo soooouuuuuiiii, ciò dalla squadra, non si è tornato, non si è tornato i miei fratelli meccanici, mi stanno finificando, ahhh, venga, allora tutti in carena, tutti in carena, tutti in carena, tutti in carena, come sto ci prega, non ci senti tutto, allora c'è un aeste, non va, c'è sinistra, dentro, abbiamo una staccata, oh, oh, vale, vai è un oltre culture, zieci di te voi, e siamo działati, ci stanno finito, abbiamo paura, ah, ma daare, abbiamo paura, no, no, tutti adesso, stanno finito, non lordy, C'è una F, mi sembra, una F, mi è tozza, mi stupela, voglio che ti prendo la scia, cacchiglia! Sì, l'imbarca, sieda, e la F, mi sembra, un'altra foto, è stata ottimistica, bellissima! via di marcia, si entra, legna la curva, questa sera, si entra, poi mi piace, ma che cordono, non lo scuola, qui si stacca, qui si stacca, si stacca, si va dentro, si va dentro, e ora che arrivo sul tracciato, sull'arrivo, oh, che faccia tutto, ma guarda le ballo che è passato, facciamo una foglietta per il motore, vi prego, aiutatevi, non è giusto, perché stanno morendo più da me, seriamente? A me, a me, a me, a me, a me, gira, 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 io vorrei seguire un ragazzo, perché a me non mi devo andare piano? Non ce lo sa, non è giusto, comunque, dove è avuto in giro di prova, adesso stacchiamo e facciamo in serie.